Violento schianto intorno a mezzogiorno a Brendola, lungo la strada statale 500, alle 12.30 i vigi del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 500 a Brendola per un incidente tra un'auto e un furgone, due le persone ferite. Per causa in corso di accertamento il furgone ha colpito con violenza l'Audi A3 sulla fiancata. Dalla parte del guidatore i pompieri arrivati subito dall'Onigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed è stato l'autista rimasto bloccato all'interno dell'Audi A3. Il ferite è stato preso in cura dal personale sanitario del suo M118 per essere trasferito in ospedale, così come anche l'autista del furgone. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguiti i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigi del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Il ferite è stato preso in cura dal personale sanitario dell'Audi A3.